Nell'ambito della riorganizzazione delle attività in area vasta 1 per ottimizzare le risorse sia materiali che umane, si è conclusa dopo Pasqua la fase dei trasferimenti per il servizio vaccinazioni di Fano, dal Palazzo di Vetro in via 4 a Novembre a Rosciano in via Paolo Borsellino numero 4, la stessa sede del Dipartimento di Prevenzione, un punto di eccellenza anche per la profilassi internazionale. La vaccinazione è il presidio più importante da un punto di vista della prevenzione, scientificamente dimostrato con l'eradicazione anche di alcune malattie ed il controllo della gravità delle malattie infettive. Quindi di fatto i risultati ottenuti con le vaccinazioni da un punto di vista della salute pubblica sono sotto gli occhi di tutti. È chiaro che deve essere anche un ambiente adeguato, un ambiente che abbia un'accoglienza soprattutto nei confronti dei bambini che si ritrovano per la prima volta ad essere inseriti in un ambiente di carattere sanitario. Quindi da questo punto di vista questa nuova struttura, questa nuova realtà che abbiamo creato, che l'Asura ha creato, diciamo che rispecchia quelli che possono essere i criteri moderni e nuovi di accoglienza anche dei bambini nei confronti di una pratica così importante come la vaccinazione. Nei nuovi locali è stato dato ampio spazio alla sala d'attesa, con un angolo dedicato ai bambini dove possono giocare e leggere libri. Il front office invece potrebbe essere utile anche per gestire eventuali situazioni di emergenza. Sono previsti inoltre due percorsi con altrettanti ambulatori vaccinali e medici. Il medico effettua l'anamnesi, la visita se del caso del bambino, parla con i genitori, illustra i vantaggi in un certo senso della vaccinazione, l'importanza della vaccinazione e sottolinea anche eventuali piccoli problemi che possono nascere e va a fugare quelli che possono essere i timori oggigiorno talvolta, ecco, sottolineate dai genitori che magari leggono, tra virgolette, notizie forvianti o comunque non corrispondenti al vero, ecco, su internet e su altri mezzi di informazione. Quindi cerchiamo di instaurare un rapporto di serenità con i genitori. Successivamente il bimbo con la mamma si reca nella sala vaccinale, dove sono le nostre istante sanitarie, la quale provvedono a vaccinare, a registrare la vaccinazione e dare direttamente l'appuntamento per la vaccinazione successiva che viene annotata direttamente. La prima vaccinazione, invece quella riferita appunto ai bimbi appena nati, ecco, noi chiamiamo appositamente con una lettera a domicilio, dandogli uno specifico appuntamento. Il nuovo recapito telefonico della segreteria del servizio vaccinale è lo 0721 868986, mentre il fax è lo 0721 868983. È possibile prenotare nelle giornate di mercoledì dalle ore 11 alle 13.30 e il giovedì dalle ore 12 alle 13.30.